Non è stato un semplice convegno sullo sport, si è trattato dell'ennesimo grido d'allarme per lo sport siciliano e catanese. A Palazzo Platamone, conosciuto anche come Palazzo della Cultura a Catania, dirigenti, atleti e giornalisti hanno fatto il punto della situazione ormai disastrosa dello sport a Catania. Ecco alcune voci significative. Le strutture sono un po' fatiscente, quelle poche strutture che funzionano sono piene di atleti, quindi è difficoltoso. Ed è la buona volontà degli sportivi che ci permette di fare attività sportiva, perché se non ci fosse questa buona volontà, probabilmente siamo già agli ultimi posti nella classifica nazionale dell'attività sportiva, abbiamo anche un numero grandissimo di ragazzi obesi, saremmo ancora più giù. A Catania si è sempre fatto sport, lo si sta facendo, lo si continuerà a fare. Nonostante naturalmente tutte le problematiche di carattere economico, dovute naturalmente alla crisi economica che noi chiaramente stiamo vivendo, nonostante le problematiche legate agli impianti, però sottolino sempre che comunque Catania, ma in generale la Sicilia è dotata di una buona classe dirigente sportiva, che comunque fa sacrifici, porta in giro i nostri ragazzi, certe volte i nostri bambini in giro non solo per la Sicilia, ma anche per l'Italia, diciamo una elevata classe dirigente sportiva che riesce a superare, ripeto, questi problemi. Catania comunque sia in passato che tutt'oggi segna una storia importante dello sport italiano, non solo a livello nazionale, ma internazionale. Abbiamo atleti che hanno segnato lo sport nella storia e atleti che continuano comunque a portare avanti questa bandiera, sia nel mondo della boxe, della lotta, del judo, dell'atletica, della pallannuoto, e questo è un dato di fatto perché i numeri sono quelli che parlano, lo sport non si premia per caso quando si dà un premio, si riconosce sicuramente che atleti che hanno un valore non solo nazionale, ma anche internazionale. All'interno del convegno, organizzato dall'Ussi Sicilia e dall'Ordine dei giornalisti, anche una parentesi dedicata all'assegnazione di alcuni riconoscimenti, assegnati dall'Associazione Azzurri d'Italia di Nando Sorbello, ad atleti, dirigenti e giornalisti, emblematico quello assegnato a Valeria Maglia, direttore della testata giornalistica di Teleionica, che da domani chiuderà le trasmissioni.